Alvia la fase partecipata dei piani di mobilità sostenibile, Biciplan e un piano operativo di gestione del traffico urbano, adottati dall'Aggiunta Comunale il 24 febbraio scorso. Il primo incontro con le principali categorie economiche del territorio, che hanno aderito all'iniziativa con entusiasmo e partecipazione, si è tenuto stamattina in comune, alla presenza del Mobility Manager Ingegner Giovanni Spartà e il suo staff dell'Ufficio Mobilità del Comune, dell'ingegner Fiorella Onsel, che ha progettato i piani, e dell'assessore all'urbanistica del Comune di Pordenone, Cristina Mirante. La mobilità sostenibile in una città si costruisce attraverso un processo e una fase fondamentale di questo processo è la condivisione con coloro che vivono la città, soprattutto lavorano all'interno della città e necessitano di avere spostamenti veloci ma anche sostenibili. Questo primo passaggio vedrà poi una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza in modo tale da raccogliere osservazioni, indicazioni, critiche, tutto quello che serve per poter arrivare poi a un progetto quanto più condiviso con tutta la città. Il PUMS è un piano quadro che appunto incasella le strategie dell'amministrazione comunale relativamente alla mobilità sostenibile. Quindi si articola in diversi settori, diversi capitoli che riguardano sicuramente l'accessibilità alla città, quelle che sono gli interventi per agevolare questa accessibilità e renderla più attrattiva. Quindi abbiamo immaginato di lavorare sugli assi di penetrazione dotandogli di quelle che si sono chiamate cerniere di mobilità che sono dei poli di intermodalità anche dove si potranno trovare anche dei servizi che aiutino a scegliere il mezzo migliore per arrivare in centro. Quindi può essere che ci sia il trasporto pubblico che viene rivisitato su questi assi rendendolo più efficiente e la ciclabilità che anche si attesta sugli stessi poli. Il legato del PUMS è il Biciplan che è una rivisitazione dell'esistente del 2015 con anche qui un adeguamento a quelle che sono le classi delle strade. Quindi la gerarchia viaria è il tema fondamentale sul quale bisogna trovare iniziale condivisione. Da lì poi si scelgono tutte le tipologie di intervento.